Quindi, gentilmente, sei questo suo debuto, come se lo aspettavo, oppure come è andata, insomma, come ha visto lui la partita? La tua partita era come lo aspettavo prima o era diverso o qualcosa? Sì, diciamo. La tua partita di oggi, la tua prima partita, era come lo aspettavo prima o era diverso? Prima di tutto, grazie a Dio per l'opportunità di tornare in Italia. Mi sento bene di essere qui, ma, sì, lo aspettavo, non necessariamente un vincente, ma solo la forma che i ragazzi venivano a giocare oggi. Le ultime pratiche, vediamo cosa alcuni ragazzi potrebbero fare. Credo che abbiamo alcuni giocatori davvero buoni, quindi non sorpreso di quanto è vero. Prima di tutto sono molto contento di aver avuto l'opportunità di essere tornato qui. Il debutto, diciamo, è come me lo aspettavo, non tanto relativo al risultato, alla vittoria, quanto a quello che poi la squadra ha espresso, perché in questi primi giorni di allenamenti ho visto i ragazzi, ho visto quello di cui erano capaci e poi si è tradotto comunque sia in una buona prestazione. Sì. 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 Allora 7 punti, 3 tiri diciamo che sono in parte perché poi anche degli errori di percorso, ci tra qualcosa che non va. Sicuramente... Non ho poco lontino, ho dimenticato la risposta. Sicuramente comunque c'è qualcosa di positivo ed è un punto di partenza. Però lo sentiero con la tua squadra, questa davvero è una turnica o potete us twee? Penso che sia sia Reese! I think it's both, they obviously have a system here, and I'm new, so I have to make the adjustment as fast or quickly as I can to be able to be effective. So, honestly, I look forward to it. The teams seem to be really good, everyone plays with each other, looks like everybody understands each other. And I think the coaches and staff have a great system, offensively and defensively. I think it's a good system to make sure you have a good reference. Thank you.